Due imprenditori dovranno presentarsi di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo ad ottobre per presunta frode durante la costruzione del Ponte Leonardo che collega Montevarchi e Terra Nuova come riportato dalla TGR Rai Toscana in un servizio a firma di Costanza Mangini. Il PM Giulia Maggiore della Procura di Arezzo ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per due persone, i due titolari di una ditta fiorentina che si sarebbe occupata della costruzione delle rampe del Ponte Leonardo. Il reato contestato è quello di frode nei materiali da costruzione. Secondo la pubblica accusa infatti camion con il materiale che sarebbe poi servito per le rampe avrebbe dovuto transitare dal centro riciclaggio inerti di Bucine mentre le indagini della Guardia di Finanza condotte con l'utilizzo del GPS avrebbero dimostrato che venivano portati direttamente al cantiere del Ponte. Dopo l'avviso di chiusura indagini il PM Giulia Maggiore ha chiesto il rinvio a giudizio dei due titolari. Adesso il GIP dovrà decidere se mandare a processo meno gli imprenditori.